Ora andiamo a fare ragazzi la ruota premium, eliminiamo i risultati e andiamo sulla ruota premium Primo giro per Saretta che oggi ha ragazzi 3 giri di ruota, solo lei Card da 1000, card da 2008 e partite insieme Primo giro, partita Secondo giro Attenzione, quasi card da 2008, quasi Andiamo con il terzo giro Partita Giro per Astro, primo giro per Astro ragazzi Partita insieme Giro per Prince E poi l'ultimo giro ragazzi per Vita Attenzione Non ci credo, non ci credo Card da 2800 WBAC per Prince E poi giro per la vita ragazzi Partita, quindi 5 partite e una card da 2800 WBAC